Qui dormirò e registrerò le mie memorie, sempre che possono interessare a qualcuno nel prossimo futuro. Quando uscirò da qui, tra non so quanto, l'intera umanità potrebbe non esistere più. Potrei essere rimasto l'unico uomo sulla Terra. Immagino che alcuni come me siano immuni al contagio, ma non posso esserne sicuro al 100%. Spero in ogni caso che se è rimasto qualcun altro sano di mente abbia fatto in tempo rifugiarsi da qualche parte, come sono riuscito a fare io. Grazie a tutti. Grazie a tutti.